Allora, Scottie P, esattamente che cosa fai per vivere? Oh, mamma! Lavoro per la ENJ Amusement, se faccio funzionare i Monkey Maze, se mi capisci. Che diamo è i Monkey Maze? Ah, è tipo la terrificante trappola della morte, ma per bambini piccoli. Ehi, porti i tatuaggi, bella. Oh, sì, grazie, fratello. Hai visto il cobra? E quello cos'è? E quello sul petto? Ah, questo? Uh-huh. Questo è il mio greco. Niente riempianti. Uh-huh. Capisco? Non hai riempianti? Papà! No, nemmeno una singola lettera? No, nemmeno. Non è da me. Papà! Beh, mi piace. Hai una gamba. Sì, ok. Hai un bel concetto e che esiste, se fossi intendo non userei protezioni.